calze con l'ansauber il benessere delle gambe nei colori moda presentano hai detto addio al tuo paese sì a tutto tranne che a te sì a tutto tranne che a te allora ho conquistato il tuo cuore allora ho conquistato il tuo cuore questo sembra c'è uno con l'asma qui c'è una lunga pausa in cui lei lo annusa non troppo il vento è con noi saltiamo il vento è con noi saltiamo questo amore comunque questo è amore domani alle 20 e 30 su rete 4